E' terminata con successo l'installazione dell'ultimo dei 30 cassoni necessari al rigalleggiamento della costa Concordia. Il cassone P1 è stato posizionato sul lato sinistro del relitto ed è tutto pronto per iniziare i test di verifica necessari prima del refloating previsto entro il 20 luglio. Nella fase di rigalleggiamento i cassoni saranno progressivamente svuotati dell'acqua di Zavorra attraverso l'emissione di aria compressa facendo gradualmente emergere il relitto. Sulle operazioni di rimozione del relitto è atteso il parere dell'osservatorio di monitoraggio che si riunirà con una doppia seduta a lunedì 7 luglio a Firenze. In quell'occasione sarà verificata la corrispondenza del progetto di traino e smantellamento con le prescrizioni che ciascun ente ha indicato. Nessuno può escludere che ci siano rischi per l'ambiente durante il trasferimento della Concordia dall'isola del Giglio al porto di Genova, ma abbiamo previsto precise prescrizioni perché i rischi siano minimi, ha dichiarato stamani il ministro dell'ambiente Gianluca Galletti. Ricordando che è la prima volta al mondo che si procede con un'operazione di questo tipo. Quanto alla scelta del governo di scegliere Genova al posto di Piombino come porto per lo smaltimento, il ministro ha ribadito, è più sicuro. E volendo mettere fine alle polemiche, ha concluso, l'essenziale è stato ottenere che lo smaltimento avvenisse in Italia perché i ricavi economici di una tragedia come quella della Concordia rimanessero nel nostro paese. Non è la guerra tra i porti italiani che mi interessa.